un po un po un po un po un po il i latino una fine come ribolle l'acqua il viaggio e a dire come ribuole l'acqua la? no, c'è un minerale di bicarbonato perciò vedi fa contatto con l'acqua fa reazione con l'acqua è come se fosse tipo efervescente c'è il caso Davide? questo è il carbonato eh guarda, guarda la, la raspirina vinci vinci perchè i voti venivano proprio dal risorbimento della sostanza organica lascio, lo tenete solo il google ok ancora allora i travesti quindi li vedete questi, questi, quelli li vedete anche lì in effetti state osservando la formazione in posto di una roccia sedimentaria è una famiglia particolare di rocce sedimentare grazie